scende in campo la squadra della capitale favolo giallo rosso in alto e fuori e fuori la voce Roma in porta Basman con il numero 1 Francesco linea difettiva a destra la gazzella con il numero 15 Jonathan centrale difettivo The Wall con il numero 19 Valde laterale sinistra di difesa Terminator con il numero 3 Antonio Carlos a centrocampo a destra con il numero 2 Petrolino centrale di centrocampo l'anima cantina della Roma con il numero 17 Daviano centrale di centrocampo il Puma con il numero 11 Sarosa non poteva mancare nell'ultima giornata laterale sinistra di centrocampo con il numero 32 Pizzè in attacco il re leone con il numero 18 Gabriel in attacco Top Gun con il numero 9 Vincenzo è il momento del capitano del nostro capitano del titolo di Roma del gladiatore giallo rosso del Vincenzo del Vincenzo con il numero 10 Pizzetto Vincenzo 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 E' la roba che vince! E' la roba che omiglia! E' la roba che domina! E' la roba che adulta! E' la roba che domina! 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 Fuore, anima, entusiasmo, polmoni! Seguite i canti della Curva Sud! Seguite i ragazzi della Curva Sud! E' la roba che domina! 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 è finita la Roma è campione d'Italia